Un legame veramente che va alle origini della nostra terra, Napoli città greca, è un legame che però si è alimentato molto anche in epoca contemporanea, voglio ricordare la difesa di Napoli e dei napoletani quando la Grecia stava per soncumbere per le austerità delle politiche monetarie dell'Unione Europea, voglio ricordare anche questa giornata in cui Napoli ha voluto fortemente che la lingua greca fosse patrimonio mondiale, quindi una giornata mondiale e poi con il popolo ellenico, sia la comunità ellenica napoletana che con il popolo greco stiamo lavorando molto anche attraverso le nostre città per costruire un Mediterraneo di pace, di fratellanza e di solidarietà partendo proprio dalla nostra grande storia e poi anche l'opportunità di dimostrare l'eccellenza dei licei classici anche, che sono quanto mai attuali dove appunto si continua a insegnare anche il greco antico e quindi le origini dell'umanità, dalla filosofia al teatro alla letteratura. Anche ripristinare via dei greci è stato un bel segnale. Sì, sì, infatti l'abbiamo fatto alcuni anni fa, è uno dei tanti segnali con cui abbiamo rimesso a posto la storia con la toponomastica. I fascisti e i nazisti cancellarono via dei greci e noi l'abbiamo ripristinato. La libertà vince sempre contro l'oscurantismo, però bisogna lottare.